Musica Trattandosi di oggetti estesi in uno spazio tridimensionale, dei soliti si possono discutere le proprietà metriche, cioè riguardanti la misura, secondo tre punti di vista. Quello unidimensionale o lineare della lunghezza, quello bidimensionale dell'area, quello tridimensionale del volume. Per i primi due aspetti possiamo rifarci direttamente a quanto è stato discusso in merito nei corsi sulla geometria piana. In particolare risultano utili le estensioni allo spazio dei teoremi di Pitagora e di Euclide, del concetto di similitudine del teorema di Talete, che permettono di calcolare lunghezza o distanza e aree. Il calcolo della misura della superficie di un solido può essere facilmente ricondotto al calcolo dell'area di superfici piane nel caso in cui il solido sia sviluppabile, cioè con un linguaggio intuitivo e non tecnico se la sua superficie può essere distesa su un piano senza stiramenti o strappi. Questo è il caso di tutti i solidi notevoli che ho introdotto nella lezione precedente, ad eccezione della sfera e delle sue parti. Per i poliedi in generale l'area della superficie è data dalla somma delle aree di tutte le loro facce, che sono poligoni. In casi specifici si possono scrivere delle forme, che ti invitano a imparare a memoria perché si possono ricavare facilmente con semplici considerazioni relative alla forma del solido. Lo sviluppo di un prisma retto è l'unione di un rettangolo equivalente alla superficie laterale e di due poligoni congruenti alle basi. Se 2p rappresenta la misura del perimetro di ciascuna delle basi e h quella dell'altezza, allora la misura dell'area della superficie laterale è uguale al prodotto 2p per h. Così la misura dell'area della superficie totale è 2p per h più 2 per ab, dove ab è la misura dell'area di una delle due basi. Nel caso particolare del parallelepipedo rettangolo, la misura dell'area della superficie laterale è 2 per a più b per c, mentre quella dell'area di una base è a per b. Così l'area della superficie totale misura 2 per ab più ac più bc. Per il cubo, i cui spigoli sono tutti congruenti e per esempio misurano s, l'area della superficie totale misura 6s alla seconda. Passiamo alla piramide retta. Il suo sviluppo è l'unione tra tanti triangoli, uno per ogni faccia laterale, che hanno altezza congruente all'apotema della piramide e base congruente al corrispondente spigolo di base e un poligono congruente alla base. Indicate con p, ab e a minuscolo rispettivamente le misure del semiperimetre della base, dell'area della base e dell'apotema, la misura dell'area della superficie laterale è p per a e quella dell'area della superficie totale è p per a più ab. Se si conosce la misura r del raggio della circonferenza iscritta alla base, allora l'area della superficie di base misura p per r. Così la misura dell'area della superficie totale è data da a più r per p. Ricordando che le facce laterali di un tronco di piramide sono tra pezzi, nel caso particolare di un tronco di piramide retta i cui semiperimetri di base misurano rispettivamente p e p' e l'apotema misura ancora a, la misura dell'area della superficie laterale è p più p' per a e la superficie totale è un'area che misura p più p' per a più a b più a' b. Passando al cilindro retto, il suo sviluppo è l'unione tra un rettangolo le cui misure sono 2pi greco r e h dove r è la misura del raggio delle basi e h è quella dell'altezza del cilindro e due cerchi congruenti alle basi. La misura dell'area della superficie laterale è quindi 2pi greco r e h e quella dell'area della superficie totale è 2pi greco r che moltiplica r più h. Il caso del cono retto è altrettanto semplice. Basta osservare che i segmenti che hanno per estremi il vertice del cono e un qualunque punto della cicloferenza che forma il bordo della base, detti apotemi, sono tutti congruenti tra loro. Così, lo sviluppo della superficie del cono è l'unione tra un cerchio congruente alla base e un settore circolare che ha raggio congruente all'apotema del cono e il cui arco è lungo quanto alla cicloferenza di base. Pertanto, la misura dell'area della superficie laterale è pi greco r per a e quella dell'area della superficie totale è pi greco r per r più a. Gli sviluppi del cilindro e del cono che ti ho presentato possono essere giustificati approssimando i due soli rispettivamente con dei prismi e con delle piramidi ad essi iscritti o circoscritti. E aumentando sempre più il numero di facce laterali per migliorare l'approssimazione. Nel limite in cui il numero di facce laterali tende all'infinito con certo che è qui non preciso si ottengono i risultati citati. Le formule si possono quindi ricavare da quelle relative ai prismi e alle piramidi sostituendo il perimetro di base con la lunghezza della circonferenza di base. Allo stesso modo, si può dimostrare che lo sviluppo di un tronco di cono retto è l'unione tra due cerchi congruenti alle basi i cui raggi misurano R e R' rispettivamente e la differenza tra due settori circolari opportuni. Se A indica la misura dell'apotema del tronco di cono retto allora, prendendo spunto dalla formula che abbiamo ricavato per il tronco di piramide retta la misura dell'area della superficie laterale è pi greco A per R più R' e quella dell'area della superficie totale si ottiene aggiungendo pi greco per R quadro più R' quadro. Tratterò la misura dell'area della superficie sferica e delle sue parti dopo aver discusso la misura dell'estensione spaziale dei solidi. Per definire il concetto di volume di un solido procedo, come avevo fatto per il concetto di aree nella geometria piana introducendo il concetto primitivo di estensione spaziale del solido e la relazione di equistensione tra due solidi detta anche equivalenza è indicata con questo simbolo. Ci aspettiamo che due solidi equivalenti abbiano lo stesso volume così, come abbiamo fatto per le relazioni di congruenza e di equivalenza piana aggiungiamo un assieme richiedente alla validità delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva. In questo modo l'equivalenza spaziale risulta essere proprio una relazione di equivalenza e ci permette di definire il concetto di volume di un solido e la sua classe di equivalenza rispetto alla relazione di equistensione spaziale. Come nel caso piano, però è necessario aggiungere altre sioni in modo da rendere operativo questo concetto. Ci aspettiamo, ovviamente che due solidi congruenti siano equivalenti e definendo opportunamente la somma e la differenza tra due solidi lascia a te il compito per esercizio puoi prendere spunto dalla discussione che ho fatto nel caso piano ci aspettiamo anche che somma e differenza tra solidi equivalenti siano equivalenti. In questo modo due solidi equi scomponibili cioè che risultano essere somme di una quantità finita di solidi congruenti sono equivalenti. Un'altra proprietà che dobbiamo assumere per mezzo di nasiona è la legge di tricotomia. Dati due solidi A e B diciamo che A è prevalente a B o maggiore di B se B è equivalente a una parte di A. Si dice anche che B è subvalente ad A o minore di A. Allora dati due solidi qualunque A e B sono possibili solo questi tre casi A è prevalente a B oppure A è equivalente a B oppure A è subvalente a B. I concetti di equi scomponibilità di somma e di differenza dei solidi si basano sul fatto che la superficie che costituisce il bordo di un solido ha volumo uguale a zero. Quindi due solidi che condividono esclusivamente punti del bordo sono sommabili e il volume della loro somma è la somma del loro volume. Ciò significa anche che esistono solidi equivalenti dei quali uno è parte dell'altro almeno nel caso in cui la loro differenza sia costituita esclusivamente da punti del bordo. Cosa succede se la differenza tra due solidi contiene anche punti che non stanno nel bordo? Per discutere la questione è necessario introdurre il concetto di punto interno di un solido. Un punto P di un solido A si dice interno ad A se esiste una sfera che ha centro in P ed è completamente contenuta in A. L'interno di un solido A è il solido formato da tutti i punti interni di A. Essendo propensi a ritenere che una sfera non possa avere volume nullo siamo portati a credere che se la differenza tra il solido A e il solido B ha un interno non vuoto allora A è prevalente a B. La verità di questa affermazione non è però dimostrabile come indica il paradosso di Banach-Tarski Nel 1924 i due matematici hanno dimostrato che usando la sioma della scelta è possibile suddividere una sfera in un insieme finito di parti le quali ricomposte opportunamente mediante il solo uso di rotazioni e traslazioni producono due sfere congruenti alla prima. Questo risultato può essere interpretato affermando che una sfera è equiscomponibile alla somma di due sfere congruenti ad essa quindi è equivalente a tale somma ma ciò pare contraddire il fatto che la somma delle due sfere ha volume doppio di una qualunque delle due. Come si esce da questo paradosso? Diciamo che il solido B è una parte propria del solido A se la differenza A-B ha un interno non vuoto. Data questa definizione possiamo aggiungere la sioma di Dezolt secondo il quale un solido non può essere equivalente a una sua parte propria. Questo nuovo assioma risolve il paradosso di Banach-Tarski perché la sua validità implica che le parti nelle quali la sfera viene suddivisa non siano misurabili. Se nella definizione di equiscomponibilità si richiede che tutte le parti siano misurabili allora la sfera non risulta più equiscomponibile alla somma delle due sfere ad essa congruenti. Per completare l'insieme di assomi relativi all'equivalenza spaziale è necessario aggiungerne ancora uno il principio di cavalieri. Se i due solidi sono disposti in modo che le loro sezioni individuate da un qualsiasi piano parallelo a un piano fissato sono equivalenti nel senso dell'area allora i due solidi sono equivalenti nel senso del volume. Il principio di cavalieri serve per poter confrontare solidi che non sono equiscomponibili permettendo ciò nonostante di dimostrarne l'equivalenza. Si tratta essenzialmente dello stesso strumento che già Archimede adoperava più di duemila anni fa per determinare il volume di alcuni solidi di rotazione come i conoi degli sferoidi oppure del bicilindro ottenuto intersecando due cilindri congruenti con assi incidenti perpendicolarmente. Archimede aveva descritto il suo metodo in un manoscritto intitolato Metodo sui teoremi meccanici è andato perduto e ritrovato solo nel 1906 a Costantinopoli cioè a Istanbul perciò Cavalieri non lo conosceva. Stabiliti gli assiomi dimostriamo ora i teoremi di equivalenza che danno luogo alle corrispondenti formule per il calcolo della misura del volume di un solido. Prima di ciò però introduciamo l'unità di misura dei volumi. Potremmo utilizzare un qualsiasi solido misurabile ma conviene armonizzare l'unità di misura del volume a quelle delle aree e delle lunghezze. Se allora un certo segmento U è unità di misura delle lunghezze allora la corrispondente unità di misura delle aree è il quadrato di lato congruente a U e la corrispondente unità di misura dei volumi è il cubo di spigolo congruente a U. È chiaro che la misura del volume di un parallelepipedo rettangolo è proporzionale a ciascuna delle tre misure A, B e C del parallelepipedo. Quindi, grazie alla scelta che abbiamo fatto dell'unità di misura dei volumi, la misura del volume di un parallelepipedo rettangolo è uguale al prodotto A per B per C che può essere interpretato come il prodotto tra la misura dell'area di base e la misura della sua altezza. Due prismi che hanno basi equivalenti e altezze congruenti sono equivalenti. Infatti, si può costruire un prisma congruente al secondo in modo che le due basi giacciano sui piani nei quali sono contenute le basi del primo prisma. Preso un qualunque piano incidente di due prismi parallelo alle basi, le due sezioni sono congruenti alle rispettive basi e quindi sono equivalenti tra loro per la proprietà transitiva. Dunque, applicando il principio di Cavalieri concludiamo che i due prismi sono equivalenti. Applicando il teorema al caso in cui uno dei due prismi è un parallelepipedo rettangolo otteniamo che la misura del volume di un qualunque prisma si calcola moltiplicando la misura dell'area della sua base per la misura della sua altezza. Esattamente allo stesso modo si dimostra che un prisma e un cilindro che hanno base equivalenti e altezze congruenti sono equivalenti. Così, la stessa formula può essere utilizzata per calcolare la misura del volume di un qualsiasi cilindro. Due piramidi che hanno base equivalenti e altezze congruenti sono equivalenti. Anche in questo caso si usa il principio di cavalieri. Basta ricordare che una sezione di una piramide parallela alla base è simile alla base con rapporto di similitudine uguale al rapporto tra le loro distanze dal vertice. Quindi, il rapporto tra le loro aree è uguale al quadrato del rapporto tra le loro distanze dal vertice. Costruita dunque una piramide congruente alla seconda che ha base e vertice aggiacenti nei piani sui quali stanno la base e il vertice della prima piramide, un qualunque piano parallelo alle basi e intersecanti le due piramidi individua due sezioni simile alle relative basi con lo stesso rapporto di similitudine quindi tra loro equivalenti. Esattamente allo stesso modo si dimostra che una piramide e un cono che hanno base equivalenti e altezze congruenti sono equivalenti. Per determinare allora una formula per il calcolo della misura del volume di una piramide o di un cono è sufficiente riuscire a confrontare un prisma e una piramide che hanno base equivalenti e altezze congruenti. Dimostriamo che sotto questa ipotesi il prisma è equivalente al triplo della piramide. Senza ledere la generalità del discorso consideriamo un prisma retto a base triangolare. Come puoi vedere dalla figura tale prisma può essere scomposto come somma delle tre piramidi A, B, C, A', A'B'C'C' e B, B'C'A'. Le prime due piramidi sono equivalenti perché hanno le basi A, B, C, A'B'C' congruenti quindi equivalenti e le altezze A, A'C, C' congruenti. La seconda e la terza piramide sono equivalenti perché rispetto alle basi congruenti B, C, B' e C, B'C' hanno la stessa altezza A'H. Per la proprietà transittiva le tre piramidi sono equivalenti e il teorema è dimostrato. Di conseguenza la misura del volume di una piramide e di un cono si calcola come un terzo del prodotto tra la misura dell'area di base e la misura dell'altezza. Per calcolare la misura del volume di un tronco di piramide basta osservare che esso è la differenza tra la piramide dalla quale è stato ottenuto e la piramide ad essa simile che la è stata sottratta. Se S è maiuscolo alla misura dell'area della base maggiore S minuscolo quella della base minore e H è la misura dell'altezza del tronco allora chiamata X la misura dell'altezza della piramide sottratta il rapporto tra S maiuscolo ed S minuscolo è uguale al quadrato del rapporto tra X più H e X così risolvendo questa equazione quadratica troviamo che l'unica soluzione accettabile è X uguale a radice di S minuscolo per H per radice di S maiuscolo più radice di S minuscolo tutto quanto fratto S maiuscolo meno S minuscolo la misura del volume del tronco è quindi uguale a un terzo H per S maiuscolo più S minuscolo più radice di S maiuscolo per S minuscolo con un calcolo del tutto analogo si ottiene la forma per la misura del volume di un tronco di cono che può essere iscritta in termini dei raggi re maiuscolo e re minuscolo delle due basi in questo modo rimane da calcolare il volume di una sfera la sfera è equivalente alla corrispondente anticlessidra cioè al solido ottenuto sottraendo dal cilindro equilatero ad essa circoscritto i due coni che hanno vertice nel centro della sfera e per basi le basi del cilindro per comodità disegno due solidi affiancati un piano parallelo alle basi del cilindro la cui distanza dal centro della sfera misura X minore o uguale alla misura R del raggio interseca i due solidi producendo due sezioni che sono rispettivamente un cerchio di raggio radice di R quadro meno X quadro e area pi greco per R quadro meno X quadro e un anello di raggi R e X infatti gli apotemi dei coni sono inclinati a 45 gradi rispetto alle basi quindi l'area dell'anello è pi greco R quadro meno pi greco X quadro le due sezioni sono equivalenti qualunque sia valore di X così per il principio di Cavaliere i due solidi sono equivalenti la misura del volume della sfera è pertanto uguale alla differenza tra quella del cilindro e la somma di quella dei coni cioè 4 terzi pi greco R cubo questo risultato permette di determinare una forma per calcolare la misura dell'area di una superficie sferica approssimiamo la sfera con un poliedro ciccoscritto ad essa il poliedro può essere suddiviso in tante piramidi che hanno per base le sue facce e per vertice il centro della sfera osserva che le altezze di queste piramidi sono raggi della sfera così il volume del poliedro calcolato con la formula per le piramidi misura un terzo sp per R dove è sp la misura della superficie del poliedro all'aumentare del numero di facce il poliedro approssima la sfera sempre meglio così le misure dell'area della sua superficie e del suo volume si avvicinano sempre più a quelle della sfera a partire da questo risultato si può dimostrare che la misura del volume della sfera e dell'area della sua superficie sono legati da questa relazione così la misura dell'area della superficie sferica è 4 più greco da quadro termino la lezione con una panoramica sulle proprietà metriche di alcuni dei solidi che costituiscono parti della sfera un piano seccante una sfera divide quest'ultima in due parti chiamate segmenti sferici o una base la base è il cerchio o sezione della sfera mentre le due parti in cui viene divisa la superficie sferica si dicono calotte la misura dell'area della calotta è proporzionale a quella della sua altezza cioè della distanza del suo vertice dalla base del segmento sferico dove il vertice è il punto in cui la retta perpendicolare alla base e passante per il centro della sfera interseca la calotta nel caso limite in cui l'altezza diventa uguale a un diametro della sfera la calotta diventa la superficie sferica quindi attraverso la proporzione la misura dell'area della calotta è 2π r per h si dimostra che il segmento sferico a una base è equivalente alla sommata una sfera che ha diametro congruente all'altezza del segmento e un cilindro che ha altezza congruente alla metà di quella del segmento e base congruente a quella del segmento da questo teorema si ricava facilmente una formula per il calcolo della misura del volume che non conviene imparare a memoria un'altra formula altrettanto utile si serve del raggio della sfera anziché di quello della base del segmento la scelta della formula da usare dipende ovviamente da quali sono le informazioni disponibili sul segmento sferico due piani paralleli e secanti una sfera la dividono in tre solidi due segmenti sferici a una base e un segmento sferico a due basi mentre la superficie sferica viene suddivisa in due calotte e una zona sferica la cui altezza è la distanza tra i due piani anche la misura dell'area della zona sferica è proporzionale alla misura della sua altezza quindi la formula per calcolarla è uguale a quella della calotta per determinare il volume del segmento a due basi a quello della sfera avente diametro congruente all'altezza del segmento bisogna aggiungere i volumi dei due cilindri che hanno base congruente a quelle del segmento e altezze congruenti a metà di quella del segmento l'intersezione tra una sfera e un diedero il cui spigolo passa per il centro della sfera si chiama spicchio sferico la superficie dello spicchio sferico è formata da due semicerchi che vengono detti facce dello spicchio e da una parte della superficie sferica denominata fuso sferico che ne costituisce la base le misure dell'area del fuso sferico e del volume dello spicchio sferico sono proporzionali alla misura dell'ampiezza del diedero quindi sono date da queste due formule nella prossima lezione esamineremo alcuni esempi di solidi ottenuti per mezzo dei solidi notevoli che abbiamo studiato che sono tutti di frustrarsi o enda ma è chiungestilo Grazie a tutti